Grazie Presidente. Io credo che la discussione che c'è stata oggi ha veramente del surreale, in quanto qui ci sta bene un detto, non c'è per giù sordo di chi non vuol sentire. Noi ci ritroviamo con le opposizioni che continuano a dirci che non vengono date le risposte, e invece vengono in aula l'assessore, il Presidente Diama, e spiegano nel dettaglio le questioni, dando tutti quanti i numeri, e continuano a dire che non vengono date le risposte. Sarebbe interessante poter dire, visto che ci dicono a noi che in un anno non abbiamo fatto niente, che il contratto di servizio tra Roma Capitale e Ama, e quello precedente a quello attuale, era scaduto nel 2005, quando c'era il PD al governo romano, poi è arrivato nel 2008 Alemanno, e nel suo periodo non ha rinnovato, poi è arrivato Marino, due anni e mezzo, e non hanno rinnovato, perché lo ricordo anche al Consigliere Corsetti che ha citato la discussione, attenzione, è stato fatto il nuovo contratto di servizio da Tronca il 22 di maggio del 2016. Allora, detto francamente, siamo stati dieci anni senza contratto di servizio. Ora, è vero che ci viene ricordato che, dice sì, ma se voi avete trovato in un cassetto 90 mezzi, vuol dire che da acquistare, vuol dire che praticamente è stata fatta la programmazione. Allora, ricordo che su 2.143 mezzi, i 90 mezzi sono il 4%, non mi sembra che sia una programmazione adeguata al servizio della città, tanto che ci dite a noi che noi non siamo in grado di poterla gestire. In realtà il lavoro che noi stiamo facendo, come ha correttamente e in modo preciso detto il Presidente Bagnacani, stiamo prevedendo la sostituzione di oltre mille mezzi. Questo vuol dire programmazione. Come sempre nell'analisi che è stata presentata all'Aula, c'è stato spiegato, ed è una cosa che noi ovviamente politicamente sappiamo molto bene, che il porta a porta, così come è stato gestito fino adesso, in realtà è economicamente non vantaggioso, ed è fatto in una maniera che non può funzionare bene. Pertanto adesso c'è un lavoro serio, preciso, da parte di Ama, per rivoltare come un calzino il lavoro fatto fino adesso sul porta a porta, perché è questo che bisogna fare, perché sul porta a porta bisogna ricominciare da capo, dire che tutto quello che è stato fatto nel passato è sbagliato, adesso ricominciamo da capo. Allora, questo lavoro è ovvio che ha bisogno di tempo, e questo tempo noi man mano lo stiamo programmando, e a brevissimo si verranno presentazioni e conferenze stampa per iniziare su alcuni municipi, che ricordo che la grandezza del territorio e di abitanti sono pari a delle città intere dell'Italia. Pertanto noi ci stiamo trovando sicuramente, c'è un po' di difficoltà nel poter portare avanti questo cambiamento, un cambiamento difficile, per quanto si sono incancriniti tutti i problemi del passato, ma mi piace poter sottolineare come strumentalmente vengono fatte delle dichiarazioni in quest'Aula, in quanto si viene a dire, dice come, ma voi state prendendo una persona, avete preso una professionista che ha lavorato con l'assessore e adesso avete fatto il contratto con Ama e la paventano come se fosse parentopoli. Questa professionista è una persona che ha lavorato nell'emergenza dei rifiuti in Campania e dunque è una persona di tutto rispetto che sta facendo un ottimo lavoro. Paragonarla a centinaia, se non migliaia, di assunzioni con parentopoli, che sono decine di milioni di euro, per quanto riguarda il peso che c'è sul bilancio, penso che rasenti il ridicolo. Per questa ragione noi abbiamo presentato questo ordine del giorno, dove invitiamo ovviamente la sindaca e la giunta a rivedere il porta a porta, così come ci è stato presentato in Aula, in modo da creare efficientamento, riuscire ad avere un sistema che è economicamente sostenibile e quella è la prima base per poter rilanciare Ama e la pulizia della città, sia nella gestione dei rifiuti e sia nello spazzamento delle strade. Grazie. A lei.